Ospite di questa puntata di Studio Telequattro è Daniel Malalan, direttore del Teatro Stabile sloveno, grazie per essere tornato nei nostri studi per parlare un po' della programmazione ma anche di altre realtà che gravitano attorno al Teatro Stabile sloveno. Partiamo dai 120 anni della fondazione della Società Filodrammatica slovena di Trieste. Certo, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere, devo dire la verità, di venire a trovarvi, un saluto a tutti, le pozdrao, ussam. Sì, 120 anni della nascita dell'Associazione dei Filodrammatici sloveni di Trieste, proprio in quest'anno, diciamo che il 2022 un po' tutto l'anno sarà una ricorrenza, quindi tutte le produzioni del Teatro Stabile sloveno saranno un po' legate a questa ricorrenza. Abbiamo già fatto alcuni avvenimenti legati proprio a questa cosa qua, quindi si può vedere anche in sovraimpressione in quelle immagini di quegli anni, quindi di 120 anni fa, quando tutto è cominciato, che poi alla fine questa società è la base storica, ma quella che diciamo che dei dilettanti a livello proprio amatoriale c'erano gruppi già prima, qua si è instaurata già una base, proprio un gruppo di attori e di teatranti professionisti. Quindi uno di questi avvenimenti sicuramente è stato l'8 marzo, abbiamo poi in un certo senso messo assieme tre cose molto importanti. Questa società è stata fondata proprio l'8 marzo del 1902, però poi mi sono andato un po' a informare l'8 marzo che a quell'epoca non c'entrava ancora con la festività della donna, perché poi questo è cominciato un po' più tardi, dopo il 15 o intorno al 17 con la famosa femminista tedesca, che adesso non mi ricordo il nome, poi l'8 marzo abbiamo un po', comunque abbiamo, ci siamo ricordati di questa ricorrenza, quindi a livello globale proprio in onore per la festività delle donne, ospitando Diana Coloini, che è stata anche direttrice artistica del Teatro Stabile sloveno, lei poco tempo fa ha scritto un libro dedicato alle figure femminili nelle commedie di Molière. Quindi abbiamo presentato questo libro con la presenza proprio dell'autrice, della moderatrice Neva Zaitz e di due attrici, Nikla Petruska Panizzone e Tina Gunzek del Teatro Stabile sloveno, che hanno letto alcuni passi proprio di questo libro, alcuni monologhi di Molière. In questo senso anche abbiamo sottolineato anche l'anniversario i 400 anni della nascita di questo famoso commediografo. E' stato in secondo piano, quantomeno nel nostro paese. E' vero, perché certe cose non si sono fatte anche perché ci sono altre ricorrenze, oltre a questa del Teatro Stabile sloveno, ripeto che tutto quello che faremo in quest'anno sarà in quest'ottica, forse proprio il culmine lo raggiungeremo all'inizio dell'estate preparando proprio un testo che magari lo facevano, molto simile che lo facevano in quegli anni. E' vero che questa ricorrenza è passata un po' inosservata di Molière, anche perché poi ci sono i cent'anni della nascita di Pasolini, i cent'anni della nascita di Gasman, quindi a livello di teatro italiano ci sono altre priorità. Tra l'altro è venuto e credo sia uscita una biografia di Molière scritta, credo da Gogol se non mi sbaglio, comunque da un russo. Certo che di Molière si è scritto tanto, poi mi ricordo che ho interpretato anche il ruolo del re Luigi XIV in un testo di un autore croato di Miro Gavran che è La note degli dei è il titolo, quindi parla proprio di questo rapporto di Molière che Molière aveva con l'imperatore o il re dell'epoca e tutta una storia un po' inventata, un po' fantasiosa ma anche intrecciata con degli elementi che erano reali. Che poi è un autore, anche lui, che non finisce mai di stupire perché per certi aspetti ci si limita al malato immaginario e al cotè leggero, poi se pensiamo tipo al misantropo allora ci troviamo di fronte. Poi proprio per quello che riguarda le figure femminili che logicamente noi le vediamo in un modo molto teatrale ma in un modo anche un po' iconico, ma se si pensa un po' all'epoca certe cose non erano così scontate, nel 1700 o 1600 qualcosa, le donne anche in Europa o alla corte di Francia o in Francia in generale non erano le stesse donne che le conosciamo oggi a livello di diritti, a livello proprio di ruolo che ricoprivano nella società. quindi sì, poi tante volte vengono presentate come un po' delle coquettes, come potrebbero dire i francesi così via, ma non è così. Molière dava alle donne un peso nelle proprie commedie e così via. Allora, com'è questa ripresa insomma? Perché adesso si può parlare con una maggiore, come posso dire, tranquillità, anche immagino che voi guarderete anche alle programmazioni future con più serenità. Sì, assolutamente, diciamo che adesso il programma va avanti come l'abbiamo previsto, un po' l'abbiamo fissato, a più livelli, sicuramente va avanti proprio il discorso dell'abbonamento famiglie, quindi ci sono quattro spettacoli pomeridiani, il sabato pomeriggio per le famiglie è partito già a gennaio e avremo proprio anche alla fine di questo mese, alla mese di aprile, due spettacoli per bambini perché uno è saltato, perché comunque lo scherzo, cioè diciamo che la sorpresa dietro l'angolo c'è sempre. Ecco qua c'era proprio il balletto, quindi uno spettacolo di danza per bambini del teatro di Capodistria, un dittico, poi presenteremo due spettacoli di Lubiana verso la fine di questo mese, poi c'è tutto il discorso delle produzioni del teatro stabile sloveno, tuttora la farma degli uccelli, quindi si tratta di un testo inedito, un testo nuovo di Jerajvansk, una studiosa proprio di testi antichi, quindi della drammaturgia del teatro antico greco-romano, Jerajvansk ha adattato questo testo che si basa sugli uccelli di Aristofane, quindi un progetto che sta andando avanti proprio in questo periodo, per poi arrivare con tante sorprese, devo dire in esclusiva proprio sulla vostra emittente televisiva Telequattro, a maggio porteremo gli abbonati a fare una bella gita a Fiume, a vedere proprio ci sarà proprio in occasione della prima al dramma italiano di Fiume basato sul testo di Fellini o sul film di Fellini e la nave va, con la regia del triestino Igor Pison, quindi anche di questo sono molto contento, quindi sarà un'occasione molto carina nel senso regista triestino, un collega che è stato anche collaboratore del teatro stabile sloveno in vari ruoli, non solo come regista, poi ci sarà la prima con gli amici del dramma italiano di Fiume che il teatro sloveno porta avanti varie collaborazioni e così si farà una bella gita. Sai che io devo fare la domanda, no? Ah beh, certo. Chi guida per portare... Non faccio nomi, chi fa il capogita dai, sicuramente ci sarà un autista, quello giusto dell'autobus, qui fa il capogita, poi qui c'è la domanda della merenda o no, se ci portiamo la merenda, il solito il pacchetto di merenda e per poi pian piano arrivare verso l'estate del 22, logicamente come coordinatore artistico sto già preparando il programma anche per la stagione 22-23, come già detto con un respiro un po' più ampio di quello che è stato finora, più di tanto non posso svelare perché questo magari verrò a farvi di nuovo visita quando si saprà qualcosa di più concreto. La cosa divertente è che proprio oggi ho saputo altre cose ma anche io non posso dirle perché c'è questa... Giustamente anche non possiamo... Un po' di top secret, di mistero e di tensione, un po' di suspense ci sta. Deve esserci, deve esserci per forza. Però assolutamente saremo presenti comunque in vari palchi anche estivi, sicuramente al Trieste Estate Festival, al Festival Estivo del Litorale, cerchiamo di portare avanti anche questo discorso della rassegna Let's Play Sartorio con il Teatro Miela e il Teatro La Contrada, quindi questo contenitore di tre teatri cittadini dove ognuno poi presenta delle proprie visioni di teatro con anche, speriamo che quest'anno riusciremo a fare anche un avvenimento, una data unica. Quindi ci sono parecchie cose in preparazione, alcune che saranno pronte a breve, altre che si stanno progettando e così via. Quello che è anche molto interessante è una rassegna che va portata avanti già da parecchio tempo, da sicuramente due anni, logicamente quello che si poteva fare anche prima, dopo i vari periodi di chiusure, lockdown e così via. Un discorso di incontri letterari con la Radio Nazionale Slovena, il terzo programma che è un programma ARS artistico, sono proprio dei programmi letterari che si chiama ARS Teatralis, quindi un ibrido tra la radio, il teatro e l'arte letteraria. Quello che è carino è che comunque queste cose qua vengono fatte dal vivo con il pubblico e trasmesse in diretta dalla Radio Nazionale anche in collaborazione a volte con la sede regionale slovena della Rai. Una cosa che la Rai faceva una volta, i radiodrammi, non solo i radiodrammi ma anche i drammi televisivi che si facevano proprio a ripresa in diretta. Sì, questo immagino poi che starete già ragionando sulla prossima stagione, che sarà probabilmente la prima, cioè nel senso dovrete recuperare qualche spettacolo magari saltato? No, per ora tutte le cose che logicamente in questa stagione 21-22 che un po' sono state ridotte proprio a livello di programmazione, perché devo dire che la stagione scorsa è finita a novembre e quindi certe cose sono state posticipate, però adesso questa stagione che è in corso stiamo entro i termini previsti. Quindi la stagione 22-23 partirà normalmente come siamo stati abituati finora e almeno per ora non abbiamo necessità di recuperi. Devo dire la verità che a parte si va così avanti, si programma come se tutto dovesse andare bene e poi se qualcosa succede bisogna adeguarsi. Però devo dire la verità che abbiamo avuto due grandi spettacoli ospiti, uno spettacolo del teatro di Capodistria e uno del teatro di Zelie dove ci sono state quattro date consecutive, sono andate tutte da programma, una cosa che non è scontata, perché al giorno d'oggi non si sa magari, come ho detto prima, lo scherzo, bisogna arrivare sempre qualche dietro albero. Immagino che sia la cosa più, per chi fa il vostro lavoro, sia la cosa più terribile, non essere sicuri che la cosa è andata, che lo spettacolo è andato in scena fino a quando si chiude il anticipario per l'ultima recita. Esatto, diciamo che un po' questa tensione è sempre presente, un po' anche un po' di stress, però certo che poi ci sono ulteriori, bisogna ulteriormente coordinare di nuovo il tutto, ripensare tutto il programma, coordinare i collaboratori esterni per esempio e così via, quindi le cose si complicano un po'. Però dall'altra parte questa tensione può essere anche, come dire, non dico positiva, perché adesso dire positivo e negativo è sempre… Esatto, è vero. Bisogna stare attenti anche a come usare questi due termini, però diciamo che una tensione, come dire, che può comunque dare una marcia in più anche a livello, non dico solo organizzativo, ma anche così qualche volta avviene anche una nuova idea di, come si dice adesso, è molto moderno usare questo termine brainstorming, chiamiamola la tempesta mentale e quindi sì, diciamo che bisogna sempre trovare il lato quello giusto, per non dire il lato positivo, il lato giusto delle cose. Io mi domando quando tutta questa vicenda verrà storicizzata, ci sarà un prima e un dopo anche per quanto riguarda il teatro, cioè come si riparte, cioè come si chiude il capitolo diciamo pandemia e come si apre il capitolo post pandemia, cioè non sarà come prima? Sicuramente non sarà come prima, logicamente tanti, un po' ci scherziamo sopra, no? Perché diciamo prima e dopo ormai, ma non solo a livello teatrale, a più livelli, no? Com'era prima, com'era dopo, tanti dicevano ripartiremo di nuovo com'era, come siamo stati abituati a vivere prima, ma secondo me non sarà così, sarà un altro modo. Poi qua c'è tutto un discorso proprio a livello, non dico proprio della percezione, anche di come vivere non solo il teatro all'interno del teatro, del collettivo teatrale, ma proprio a livello di comunità, io adesso non mi riferisco solo a una comunità nazionale, come può essere quella la comunità nazionale slovena, mi riferisco in ampio spazio, cioè come vivere, come interpretare queste cose che sono state nuove per tutti, a livello di città, a livello di nazione, di regione, quello che è, e sicuramente anche il teatro dovrà reinterpretarsi e riproporsi in un'altra maniera. Non so come, molto, la tecnologia ci ha aiutato parecchio, però quello è stato un surrogato del teatro, quello che abbiamo visto online e così via, non è stato il teatro vero, ma sicuramente bisognerà ripensare proprio anche il ruolo del teatro, come potrei chiamarlo, come un faro della nostra società in un'altra maniera. Secondo te, abbiamo ancora un minuto, tutto ciò verrà tradotto anche in linguaggio teatrale, cioè avremo degli spettacoli che rifletteranno su quello che è successo? Sicuramente ci sono state anche già delle prove, alcuni si sono cimentati già in questo, anche come ripensare proprio il teatro, sia nei vari periodi delle chiusure, ma sia proprio come dal punto di vista dei contenuti, cosa il teatro può portare non solo come uno strumento per analizzare il nostro modo di vivere, la nostra società, ma come può portare per dare un ulteriore, un ulteriore, come dire, non scossone, ma proprio per portare un po' in avanti il discorso dell'arte in generale, anche secondo me, quindi qua diciamo che nessuno ha ancora brevettato quello per dire ok, ho trovato io l'idea giusta, quindi dai vado la brevetto e poi vediamo che a parte non si può, questo è uno scherzo, non è che non si può, è difficile, però penso che ci saranno, sicuramente si troveranno elementi che riusciranno a trovare, a decifrare l'enigma, diciamo quella, la funzione giusta dove anche il teatro ritroverà di nuovo il proprio ruolo nel nostro modo di vivere e nella nostra società. Grazie allora a Daniel Malalan, direttore del Teatro Stabile sloveno per essere stato con noi, buon lavoro. Vala, grazie a voi e a presto. Grazie a tutti.